Svegliati Alessandria, oggi è il 13 agosto 2022, sabato. Un saluto a tutti i nostri amici e amiche che ci seguono da casa. Quello che vedete in fondo è l'ex saponificio a Cantalupo, subborgo di Alessandria. Alle mie spalle, proseguendo su questo tragitto di una strada di Campania, si arriva a Casalbagliano e poi c'è una strada che da Casalbagliano collega anche Cantalupo. Siamo quindi tra Cantalupo e Casalbagliano. Passando di qui casualmente ecco lo spettacolo a cui mi sono trovato di fronte. Vi lascio giudicare dalle immagini a che cosa ci troviamo di fronte. Praticamente è una discarica abusiva. C'è ogni sorta di rifiuto abbandonato. Si va dall'Eternit, si va da carcasse di auto abbandonate ormai da Rottamare, poltrone, divani, infissi eccetera eccetera. Insomma, questo luogo a quanto pare sembra completamente disabitato. Probabilmente è per questo che alcuni inquinatori ambientali si sono trovati a loro agio e a scaricare tutto il loro materiale. Ora sono ignote le cause di tutto questo. Possiamo soltanto immaginare, anzi vi lascio a voi la facoltà di immaginare. Questo è lo spettacolo che c'è qui all'interno e niente insomma non ci sono altri commenti da fare. Ripeto qui siamo tra Cantalupo e Casalbagliano. Più indietro ci sono altri rifiuti, alcune lastre di presunto Ethernet, lavatrici, frigoriferi, insomma un luogo che purtroppo è stato preso, forse magari continua a essere preso di mira da questi attentatori ambientali e che ovviamente in queste strade secondarie di campagna trovano libero sfogo, sono indisturbati eccetera eccetera. Quindi questa è la situazione, una situazione drammatica, ripeto drammatica, merita di essere attenzionata ovviamente dalle forze dell'ordine, da chi di dovere. Un saluto ancora ai nostri amici da casa e vi auguriamo un buon ferragosto. Svegliati Alessandria